Buongiorno amiche e amici di Generiamo Salute. Oggi siamo con Messier Charrazard, direttamente dal Lussemburgo. Messier Charrazard è l'amministratore delegato della Royal, che è un'azienda che ha avuto origini familiari, è nata grazie allo sforzo di Madame Francine Charrazard e dei figli Charles et Pierre, oltre che chiaramente al Papa Michel. Ed è nata nel 1994, da lì si è sviluppata con una gamma di, da prima ha cominciato appunto con i prodotti dell'alveare e successivamente con una gamma di integratori nutrizionali e poi di fitoderivati. Buongiorno Messier Charrazard. Buongiorno Messier Charrazard. Allora, la prima domanda che vorrei farle è se ci può parlare un pochino delle attività principali della Royal. Buongiorno Messiericolo, vi aveva tutto detto in parlato della mia mamma e mio papà in 1994, una vendita di prodotti naturali auposti dei terapeutes, di molti prodotti, per qu'il puo avere dei prodotti adecuati. Buongiorno Messiericolo, ho trovato diversi terapeutes all'albero durante la mia attività, come un, il s'appelato il Dr. Gérard Guignot, che mi ha amenato a fare dei prodotti con qualità speciali, come dei planti non criobroi, dei planti ricolti in biologia. E un giorno, il mi ha parlato di la gemmothérapia che aveva inventata dal Dr. Paul-Henri, che era un bambino bruxello, e aveva creato insieme la società di biothérapia, ma il Dr. Paul-Henri era il presidente, il Dr. Guignot, un cofondatore, il aveva quindi participato, e non aveva più le remède come i avevano fatto, come Paul-Henri facendo sa fita embryothérapia, c'è dire che Paul-Henri, il aveva creato dei macerati di bourgogli, che tutto a fatto differente che la medicina dite officielle en ha fatto. E quindi, grazie a mio lavoro di herborista, in realtà, ho messo i ricoltiari dei ricoltiati, dei ricoltiari, dei ricoltiati, dei ricoltiati, e grazie a loro, ho messo i un po' in una gama in 2001-2002, che ho messo i commercializzati in 2003, con il Dr. Guignot, con il ha fatto delle formazioni, e, in realtà, il principe del Dr. Guignot, c'era di dire che Paul-Henri faccia in sua cucina, quindi non aveva di macerati, non aveva di broglie, non aveva di extractor, il faccia tutto come s'il aveva dei modi di cucina. Quindi, abbiamo ripreso queste tecniche, senza di broglie le bourgogli, senza di lissare al momento del pressaggio, e soprattutto, una ricolti più vicino della natura. Parlando di questi prodotti, che in Italia si chiamano fitoembrio estratti, può darci brevemente una indicazione sul metodo particolare di preparazione, soprattutto, in rapporto al metodo di preparazione dei gemmo derivati classici? La prima cosa, che mi piace parlare di questi ragazzi, sono tutti mes ramassati, soprattutto in questo momento, par rapporto a ciò che succede nella nostra società, par rapporto al Covid, che hanno delle difficoltà per lavorare, se déplacere e recuperare dei bourgogli. Quindi ho dei ramassati professionisti, che sono agriati, assermentati, che sono formati in botanica, perché trovare dei bourgogli, e sicuramente non è facile, par rapporto a la qualità, e soprattutto prendere l'arbre qu'il faut, perché, per esempio, prendere un bologo fulverico e un bologo pubescenti, bisognava la differenza dei due bologi per poterciare a fare un macera adéquato. E anche le ribesnigrum, può essere confonduto con molti di altre varietà, soprattutto al momento dei bourgogli, perché non abbiamo il fruito, perché non abbiamo la fleur, abbiamo un piede, e bisognavano, bisognavano, quindi sono ricupere tutti in un milio naturale e sauvaggio, e alcuni in cultura, come le radicelle di seggio o di maile, perché non abbiamo un sauvaggio. E questi bourgogli, e le radicelle, sono molto importanti, in la phytoembriothérapie, sono frai, si sono ricolli, si sono trasporti, e in questo momento, non è facile, in questo momento, in questo modo, in questo modo, in questo modo, io le faccio, e questi bourgogli sono misi a macerare le più rapidamente possibile, dopo l'identificazione organoleptica e più o meno chimica, per certi, per essere sicuro che sia la buona varietà. E questo è molto importante, questa ètape, e oggi, io ringrazio tutti questi bambini, perché, per quanto riguarda la vita con il Covid, il lavoro di una eccezione eccezione, e io ho avuto dei prodotti l'anno prossimo, grazie a loro tenacità, e loro coraggio, di ricollere le bourgogli, malgri tutte le contrainte, che possono avere. C'è una cosa, che voglio oggi, ben parlare. La grande differenza, per quanto riguarda la tecnica è considerata come un vectore d'informazione di ricolle, 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 e di ricolle, di ricolle, i da gente può. Ce qui permet, e che il doctore Paul-Henri dice, che questo permet, di extraire la quintessence su formi di macerati concentrato. E il ha sempre llamado il macerati concentrato, non come un macerati mer che dei l'Iso, che gli laboratori di souri, l'immunità farmaciòria, il è importante di comprendere questo, perché che per questo ricolle, abbiamo dei ricolli di ricolle, di ricolli rinunitoli, abbiamo dei ricolli rinunitoli, che non ci sono benvenuti, broyé. E questo, il Dr. Guignot e il Dr. Paul-Henri tenavano enormemente. Non è stato notato in descrizione di Paul-Henri, ma Paul-Henri non broyava i borgion. Perché per lui, broyava... C'è sicuro che broyava, aumenta la superficie di contact con il solvant, ma perte tutta l'energia del vivante che il borgion, perché quando l'on mette in fria il vive ancora, quindi l'on l'a tué prima. Quindi l'on ha il principe di vita. Le macerati sono agitato manuellmente. E questo, il Dr. Paul-Henri parla che è molto importante. L'agitation mechanica non ha mai un'agitation mechanica, cioè automaticamente sempre la même, ma non ha il mismo movimento. Quindi abbiamo una loi del movimento che permette di rispondere a la macerati e ai vivanti. E poi, c'è un'extraction molto importante, l'extraction par gravità e noi ne facciamo qu'une pressione douce. Il n'y a pas de broyage, de lissage dei fibri, dei celluli del bourgion. C'è sicuro che quando on broie, on va extraire il succo del bourgion e il principe chimico, ma perte tutto il principe di vibration. Nous, nos bourgions sono carattereistiche di vibration, di energia e di chimica. Il y a di chimica, ma non è non dei fos di chimica, ma non è dei fos del principe di vivante. E on va récupérer un peu moins que les 23 litres che vanno récupere la masa macera concentrata, quindi un 20e, puisqu'on prend un kilo en sec. C'è a dire qu'on reçoit nos bourgions, on les dissèque une partie, on prend un petit lot et on sait qu'il y a 63,8% d'eau dans le bourgion. On sait qu'il y a 36,2 grammes de matière sèche. J'ai un exemple là parce que avec les chiffres j'aime mieux avoir des exemples. On va faire le rapport pour trouver un kilo en poids sec, c'est-à-dire qu'il faut 2,777 kilogrammes de bourgions qu'on met à macérer dans un tiers d'alcool, un tiers d'eau, un tiers de glycérine pour faire 20 kilos et on obtient le macérat au bout de 20 jours. Cette technique, ce macérat concentré est vraiment différent en respectant le vivant, en respectant la synergie et ainsi on va obtenir avec l'alcool les alcaloïdes, les estérocides, avec la glycérine les flavonoïdes, tout ce qui est liposoluble et l'eau qui reste dans notre solution il y a les tannins, tous les dérivés hydrosolubles que l'on perd dans ça et ça c'est très important et ces mécanismes d'énergie ce qui va faire que nos bourgeons vont entrer dans un système différent de l'application et notamment que vous retrouvez dans le livre du docteur Guignot et du docteur Ledoux qui a été traduit en italien qui a été traduit en italien qui est diffusé je pense par le laboratoire de Schemann je ne sais pas s'il leur en reste parce que ça fait un moment qu'ils n'en ont pas pris donc ce livre où on explique la différence d'utilisation par rapport à l'action du corps physique du corps émotionnel toute notre gamme est certifiée bio malgré que les laboratoires de Schemann ne mettent pas encore l'estampille mais ça c'est parce que ils sont longs ils ne veulent pas agir mais toute notre gamme est certifiée bio depuis 8 ans donc ça fait 8 ans qu'ils vendent du bio sans mettre estampé tout est bio il y a quand même un petit problème avec la glycerine on a un agrément depuis l'année dernière sur une glycerine bio de tournesol et donc je vais même avoir la glycerine bio à partir des fabriquations 2018 donc normalement tout est bio même la glycerine Perfetto Grazie Messiazard c'est été gentilissime à concederci cette interviste et c'est été pour moi un plaisir d'avoir la voir aussi seulement dans le schéma Merci mille Arrivederci Arrivederci Merci